E io la voglio dedicare a tutti quelli che hanno capito che questo paese non è di chi lo governa ma è di chi lo abita. Non c'entra destra, sinistra, centro. Questa è la realtà delle cose. Sapete, suonare qua all'arena vuol dire comunque ricordarsi per forza di cose di che pasta e di che bellezza è fatta l'Italia. Ma d'altro canto si soffre ancora di più perché sapendo di quale bellezza è composta sappiamo anche quanto a fatica faccia essere un paese che ce la fa, un paese che riesca in qualche modo ad essere moderno, un paese che riesca a garantire il futuro che tutti vorremmo sentirci garantire. Siamo un paese molto lontano dal paese che abbiamo sognato ma smettere di sognare quel paese lì non serve nessuno. Quindi adesso dopo che avete dato il meglio di voi e io l'ho visto e per questo vi ringrazio.